Una tragedia si è verificata a Milazzo, in provincia di Messina, nella notte tra martedì e mercoledì. Un giovane di 26 anni, Alessandro Scalzo, ha perso la vita in un grave incidente stradale. L'episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, mentre il ragazzo, in sella alla sua moto, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici. Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro avrebbe perso il controllo del proprio motociclo all'altezza del semaforo di San Giovanni, nei pressi di piazza, 24 aprile, per poi schiantarsi violentamente contro un palo. L'impatto devastante ha sbalzato il giovane a terra e nonostante l'immediato intervento del personale sanitario con un'ambulanza, i tentativi di rianimazione sono stati vari. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri che hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Le cause del sinistro restano al momento sconosciute e saranno oggetto di accertamenti approfonditi. Alessandro Scalzo, molto conosciuto a Milazzo, lavorava su una delle navi della Caronte Turist ed era apprezzato per il suo spirito vivace e la sua passione per il calcio, tifoso della squadra del suo paese. La sua morte ha lasciato un vuoto tra familiari e amici e tutti coloro che lo conoscevano.